Gesù, certo che è noioso qua intorno. Oh ragazzo, questa pace è quella a cui tutti gli aroi avviscono. Io mi chiedo solo cosa stia per fare Ganon. Sua maestà, Ganon e le sue truppe hanno invaso la città di Korra. Come possiamo aiutare? Qui c'è scritto, solo lì può sconfiggere Ganon. Grande, vado a prendere la mia roba. Non c'è tempo, la tua spada basta e avanza. Che ne dici di un bacino per portare fortuna? Ma stai scherzando? Buona la, stiamo arrivando! Wow, cosa sono quelle teste? Queste sono le facce del male. Tu devi sconfiggerne ognuna. Io penso che sia meglio andare. Questa è la mappa. Dove vorreste andare?